allora oggi faccio il video sul pronostico della serie c avete visto quello della serie a e quello del serie b quindi ora tocca quello della serie c adesso vedrete le classifiche poi farò il play out e poi i play off allora inizio dal girone a per me retrocederà il caldiero ai play out andranno a clodiense il novara l'alcione e la pergolettese si salvano renate provercelli arzignano lecco ai play off vanno albino leffe propatria ferral pisalò gianerminio lumezzane atalanta trento virtus verona vicenza triestina e sale il padova nel girone b retrocede la pianese ai play out vanno il pineto il vis pesaro l'arezzo e la lucchese si salvano carpi campo basso sessi levante virtus centella gubbio vanno ai play off ponte d'era rimini spal legnago pescara perugia ascoli milan ternana e sale la torres per il girone c invece retrocede il team altamura ai play out vanno la cavese la turris il sorrento e il trapani si salvano il picerno il monopoli la casertana il messina il potenza e ai play off vanno latina la juventus il giuliano il crotone l'audace il taranto il catania il foggia il benevento e sale l'avellino ho detto che ai play ai play off vanno anche dal binolefe perché secondo me la finale di coppa italia serie c sarà milan e vicenza che ci sono già vincerà il vicenza e no intendevo il padova padova milan vince il padova il padova è già lì e quindi si aggiunge l'undicesima nei play out di del girone a saranno clodiense per golettese e novara alcione e per me si salveranno il novara e la clodiense nel girone b c'è pineto lucchese e arezzo vispesaro si salverà la lucchese e l'arezzo nel girone c c'è cavese trapani e turris sorrento si salveranno secondo me il trapani e la turris allora continuiamo con i play off secondo me dal gironea sarà atalanta albinolefe lumezzane propatria gianarminio feralpi poi perugia pontedera pescara rimini legnago spal dalbi e città tanto latina audace juventus e crotone giugliano passeranno l'atalanta lumezzane la ferra al pisalò il perugia il pescara e la spal taranto juventus e crotone si passerà poi con trento ferra al pisalò atalanta lumezzane per il girone a ascoli spal e perugia pescara per il b catania juve e taranto crotone per il b in cui passeranno il trento l'atalanta l'ascoli il pescara il catania la juve e no il catania e il crotone ok quindi la juve non passa poi si formeranno vicenza atalanta perché entra il vicenza che è una terza il milan col crotone perché la terza il foggia col pescara perché la terza ascoli virtus verona che è entrata perché c'era l'undicesima che era l'albino leffe e poi catania trento passeranno vicenza milan foggia ascoli e catania si formeranno poi triestina foggia perché la triestina è seconda ternana ascoli perché la ternana è seconda benevento catania perché il benevento è secondo e milan vicenza passeranno triestina ternana triestina ternana catania milan si formeranno poi le semifinali triestina ternana e milan catania passeranno la ternana e il milan la finale sarà ternana milan e in serie b riuscirà a tornare la ternana